Il malato immaginario arriva al teatro Pirantello con quali prospettive? Sono contento di essere in questo teatro dove non sono mai stato. È una città a me cara perché quando ero bambino, un giovannottello, avrò avuto 17 anni, sì. Sono stato per un certo periodo, un paio di mesi qui ad Agrigento, a casa di mio zio. Era direttore del Banco di Sicilia perché evidentemente aveva promosso il finanziamento di un film e io ho fatto l'aiuto regia in questo film e durante le riprese di questo film con la regia di Aldo Sinesio e il protagonista Dante Posani e Blanche Cardinale che era la sorella, che è la sorella di Claudia e presi la decisione di fare l'attore. Quindi per me... quindi non so se sono affezionato a questa città o devo maledirla perché comunque la mia vita è stata assegnata da Agrigento. Poi siccome amo molto Pirantello, mi trovo in un teatro intitolato al suo nome e quindi sono particolarmente contento. È una delle grandi opere, veramente, della drammaturgia con il malato immaginario rivisto e prodotto dal maestro Gabriele Lavia. Ci troviamo innanzi una delle produzioni che arrivano al teatro Pirandello e che hanno girato il circuito dei Teatri d'Italia in cui vi è il massimo della drammaturgia che si può rappresentare e questo è veramente un momento di grandissima qualità di cui siamo veramente onorati dal fatto che il Teatro Pirandello partecipi e faccia parte di questo circuito nazionale di grande livello.